ok ragazzi quello che vi ho appena mostrato è un crunch inverso utilizzando la palla come fare per eseguire questo esercizio? allora prendiamo la nostra palla e la andiamo a stringere tra le caviglie e il ginocchio ok? cercando di fare presa con la parte delle gambe sulla palla la testa la portiamo su cercando di non irrigidire troppo il collo e il mento lo teniamo verso il nostro sterno andiamo a posizionare le mani circa sotto la fascia lombare facciamo una contrazione del nostro addominale e ci spingiamo su leggermente con l'osso sacro e scendiamo giù andiamo su e ci portiamo giù andiamo su e ci portiamo giù ok ragazzi se per caso mi viene troppo fatica tenere la testa su le prime volte che facciamo questo esercizio la testa la posso tenere in appoggio quindi tenendo la testa in appoggio portiamo le mani sempre sotto la fascia lombare andiamo a spingerci su e ci portiamo giù su e ci portiamo giù ok ragazzi? e lo facciamo con sempre grande intensità ciao 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 ciao